ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere un altro video unboxing ovvero il dissipatore e niente vado a prendere il pacco e ve ne parlo allora eccolo qua questo è il nostro dissipatore spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e basta no scherzo allora questo è il dissipatore deep pool qui dovevo proteggere qua che si vede tutto dove abita eccetera eccetera io sinceramente non sapevo effettivamente quale dissipatore comprare sono andato molto a sentimento perché appunto non sapevo bene quale potesse essere utile alla fine ho visto un video preso sta chiavica come potete vedere deep cool lt 720 queste ventole qui non sono rgb ho fatto un errore di valutazione niente ce lo teniamo sterore di valutazione quindi andiamo ad aprire e niente vediamo cosa ci riserva a fare ma questo si toglie poi così io non capisco perché l'hanno messo in una custodia tipo quello delle uova queste sono quelle custodie fatte tipo quelle delle uova di cartone cioè in che lo protegge va bene allora questo è il nostro dissipatore che non dovrebbe essere troppo difficile da montare puzza sai sa di nuovo è chiuso un po come la 40 70 ti hai super però vabbè qui è già montato tutto tocca solo montare le ventole che vanno o sotto dove c'è il dissipatore o o dall'altro lato sopra perché andrebbe così tipo ok tipo così quando vestito vi sono un po cortini non so mi dà sta sensazione auk auk questo si gira ok allora questo perché questo giusto questo quasi stacca se non lo rompo magari questo qui si stacca non è un po bruttino visto così magari non sembra al massimo potete vedere una volta montata all'interno del pc qui i due cavi questi qui si girano vedete sono un po flessibili non so io pensavo fossero dritti dritti così che andavano a finire davanti no davanti qui invece no invece si possono un po modulare un po ruotare in modo che i cavi non vanno proprio davanti 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 quindi questo è il radiatore con la sua pompa e poi qua abbiamo allora qui abbiamo il cavetto i cavetti che vanno attaccati alla scheda madre ok poi qui abbiamo la pasta termica sulla piastra di rame che fa da conduzione al processore in modo da raffreddarlo ora dicono sempre che non val la pena usare la pasta termica che c'è qui io non lo so sicuramente hanno più esperienza di me però boh io quasi quasi la userei non perdendo tempo magari che ne so giusto per da non sprecare quella che c'hai è anche vero che magari uno dice vabbè spendi 5 euro 10 euro ti prendi una pasta termica fatta bene ce la butti su e sta a posto per un anno due anni o quel che è ok quindi questa è la pompa e poi qua abbiamo il radiatore una cosa delle macchine un po più piccolo un po molto più piccolo vedete e poi vabbè abbiamo anche le ventole ovviamente e sono queste qua della dip cool sempre da 120 mi sembrano delle ventole belle poi non so se devono essere molto robuste però ho provato a flettere si flette vedete guardate che si muove con le alien lì che abbiamo visto nell'altro video quelle non le sposti nemmeno quelle sono proprio dure queste sono un po più chip secondo me vabbè queste andrebbero qua così no poi dipende dal lato in cui le montate ok quindi andrebbero se questo va sotto per esempio vanno o così o così mi devo informare su quale lato è meglio montarle cioè se noi le mettiamo sotto che butta l'aria verso il sopra non ostruisce l'aria che deve uscire ovviamente le altre ventole non ve le faccio vedere sono molto chip le ventole non ci hanno nemmeno l'attacco come lo chiamano quello a margherita lì come la catena di easy chain di easy chain lì come lo chiamano queste ventole vanno tutte e tre perché sono tre così no 1 2 3 l'attacco a catena praticamente cosa succede che tu prima di andarle a mettere qui sul radiatore le puoi attaccare tra di loro tramite gli appositi attacchi che hanno le ventole sui fianchi 5 un sottolineatura appena inizia cosa che hanno le li and li che abbiamo visto nell'altro video ma non hanno queste queste qui vanno attaccate una a una quanto pare perché non c'è l'attacco tra di loro però vabbè non è tutta sta mancanza di tecnologia evoluzione se sia chiaro però diciamo che è un qualcosa di comodo in più ecco e questo niente è il radiatore con la sua ventola sarebbe così niente di trascendentale ragazzi acqua se qualcosa non so cosa ok questo dovrebbe essere il back plate credo che si chiami così che praticamente questo qui infili dietro la scheda madre poi davanti qui dove c'è il processore sbucheranno sti pirulini e poi va montato tutto l'accrocchio di questa roba qua e poi sopra una volta montato il processore ci si schiaffa sopra la placca quella che abbiamo visto prima per far sì che appunto questa parte qua del dissipatore sia in piano con il processore ma per montare un piazzetto come questo varavanta roba ok il libretto delle istruzioni voi direte ma perché rinscatoli tutto perché non so se lo monterò io se lo monterà qualcun altro tutto qui a me piacerebbe montarlo perché non ho mai montato un pc in più si risparmierei dicevo a me piacerebbe montarlo perché non ho mai montato un pc in più risparmierei sulle spese di montaggio di assemblaggio però come dire non sarei dovrei farlo letteralmente da solo perché non ho qualcuno che mi possa assistere nel nell'assemblaggio che ha un'idea più di migliore della mia e che non mi faccia commettere errori o comunque mi dia una mano nei momenti critici ecco e niente questo è il mio dissipatore spero che vi sia piaciuto anche questo video lasciato un like iscrivete al canale e ci sentiamo all'ultimo unboxing credo penso dovrebbe essere l'unboxing del cage lo vedremo nel prossimo video ciao 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 ciao